Ma ciao a tutti! In questa giornata parliamo di una storia alquanto strana. Prima di cominciare con i dettagli e tutto il resto vi consiglio di dare una piccola occhiata alla pagina Instagram ufficiale del canale e magari di lasciare un bel mi piace e seguirmi pure lì per le ultime novità. Partiamo! Cosa preoccupa di più i genitori? La sicurezza del proprio bambino o bambina sin dalla nascita, anzi bisogna avere di tutto e di più per poter proteggere e controllare un bambino perché sono veloci e corrono qua e là. Anche durante la notte non si è mai troppo tranquilli. Non importa quanti soldi si spendano, importa solo una cosa e per questa cosa si fa di tutto. Anche insegnare ai più piccoli da cosa stare attenti e cosa no. Perché parliamo di sicurezza? Perché questa storia riguarda proprio tutto ciò. Uno degli strumenti che deve tenere il piccolo al sicuro sono le culle. Non bisogna assolutamente spendere poco solo per risparmiare ma scegliere accuratamente quello giusto. Come ha fatto questa coppia Chris e Nina Cardinal dell'Arizona hanno avuto una bellissima bambina di nome Chloe che ad oggi ha 15 mesi di età. Non sono iperprotettivi e malati ma semplicemente ci tengono a Chloe e ogni notte la mettono sulla sua culla e chiudono la porta per andare anche loro a dormire. Ma qui tutto cambia. Una mattina Nina si è svegliata come sempre per cucinare la colazione e preparare tutto il necessario per pulire casa. Ma prima ancora che potesse andare in cucina ha trovato la bambina nella loro stanza che giocava con i giocattoli e i due golden retriever della famiglia. La donna disse che fu una cosa alquanto scioccante. Si stava chiedendo cosa diavolo facesse lì ed era preoccupatissima. Perché è saltata giù dalla culla e come ha fatto a uscire se la porta della stanza era chiusa? Fortunatamente non si è fatta niente. Sono quindi andati nella stanza del misfatto e hanno guardato se ci fosse stato qualcosa sotto sopra. Non c'era nulla di strano. La culla era abbastanza alta, difficile scavalcarlo. Però rimane ancora il fatto della porta. Scherzosamente il padre pensava fosse diventata Mister Fantastic e si fosse allungata o avesse usato altri poteri incredibili visti nei fumetti ma la madre non era molto divertita su questo. Come sappiamo la preoccupazione di una madre è molto più alta. Si chiedevano quindi come fosse scappata ma era successo solo una volta quindi non volevano allarmarsi troppo. La rimisero la notte dopo a letto chiudendo la porta e dandole il solito bacio della buonanotte. Hanno alzato il volume del baby monitor come si deve per sentire ogni suono chiaramente e sono andati via. Ma le cose non cambiavano. Così la mattina dopo si sono svegliati pure prima del solito sentendo la bambina dalla cassa che giocava e rideva con i suoi giocattoli vicino sempre ai due cani. Ovviamente fuori dal letto. Fortunatamente stava bene e i genitori erano contenti che i cani la stessero sorvegliando ma come ha fatto di nuovo a uscire? Nonostante i controlli dei genitori lei ogni mattina usciva da quel lettino. Forse si svegliava molto ma molto prima e se ne stava per terra a giocare con le bambole e i cani e ogni notte i cardinal si svegliavano preoccupati. Dormivano sempre meno e si stressavano sempre più. La madre pensava di dormire in stanza con lei per sicurezza ma il padre suggerì di installare una telecamera e registrarla la notte per scoprire così come sia possibile una cosa del genere e risolvere la situazione. Ancora una volta si sono svegliati prestissimo sentendo la bambina giocare e ridere sul pavimento con i giocattoli ai cani. Esausti e distrutti Nina e Chris sono andati a prendere la telecamera per vedere cos'era successo ed è veramente una storia incredibile. Avete mai pensato a cosa potrebbe esserci nel Netflix del Giappone o in quello degli Stati Uniti? Beh io a volte sì e in effetti ho scoperto che negli Stati Uniti hanno molte ma molte più cose di noi. Circa il 40% in più. Film o telefilm unici che non vedremo mai. A meno che non usiamo un VPN. Proprio come CyberGhost. Però questa è differente dalle altre. Ho deciso di accettare la loro proposta di sponsor perché a mio parere è la più completa. Siete completamente protetti quando navigate in internet. Potete guardare ogni genere di film o telefilm in ogni genere di lingua. Di ogni genere di paese. Utilizzando magari i sottotitoli su moltissime piattaforme diverse e quindi non solo Netflix. Ed eccone alcune. L'applicazione di CyberGhost è disponibile per Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Firestick, Linux e altri ancora. E con un solo account potrete proteggere sette dispositivi diversi. Se volete provare almeno una volta l'ebbrezza di essere i primi a vedere un film che in Italia magari uscirà l'anno prossimo, iscrivetevi utilizzando il codice che vi lascio in descrizione. Così da pagare solo 2 euro al mese. Il miglior prezzo finora sul mercato. E nel caso non siate contenti entro 45 giorni potrete chiedere la restituzione del vostro denaro. E ovviamente l'assistenza clienti è disponibile per ogni problema di configurazione. 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in 4 lingue diverse. Dove eravamo rimasti? Ah giusto, il mistero svelato. Ogni mattina verso le 6 circa la porta della stanza di Chloe veniva aperta perché non era chiusa chiave. Così i cani entravano molto emozionati, andavano a farle le coccole e le leccavano il volto finché non si svegliava. Ormai con la porta aperta Chloe se ne andava via come se niente fosse e giocava con gli animali. Finché ovviamente i genitori preoccupati non si svegliavano e cercavano di capire la situazione. Insomma queste fughe notturne hanno una spiegazione ora e Chris e Nina dormono più tranquilli chiudendo la porta chiave per sicurezza. Si vede comunque che i cani le vogliono un mondo di bene a quella bambina. Noi per oggi concludiamo qua. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace per farlo girare e ricordatevi che la sicurezza dei bambini è importantissima. Alla prossima gente, stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.